guarda è un trattore rosso ecco il potente motore questo è un rimorchio per il trasporto di animali il trattore porterà la mucca alla fattoria e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ha una cabina blu e un grande serbatoio per il latte. Grazie a tutti. Il camion consegna il latte al negozio. Questo trattore verde serve per pompare l'acqua di scarico. Ha un tubo speciale e un serbatoio. Grazie a tutti. Tutto fatto. Le latte sono vuote. Oh no! La mucca ha rotto la recinzione. Questo camion con i tronchi può aiutare a risolvere. Guarda quante ruote! Guarda quante ruote! Tutto fatto! Ottimo lavoro! No! 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 No!